Dov'è quel sacco di merda di Poggle? Doveva essere qui dopo pranzo, io mi sto rompendo le palle. Ce l'ho fatta, io mi sono offerto di comprarle una bottiglia, è stato eccitante, sono veramente eccitato ora, come un puttano. Cavolo, è fottutamente eccitante. Eh, sapevo che lo dicevi. Perché non ci ho pensato io, cazzo? Siamo fottuti, ok? Siamo fottuti? Ecco che si ottiene a fidarsi di Poggle, ok? Se l'è fatta sotto, quello si è cagato sotto! Che stai facendo? Faccio dei buchi, le ultime due settimane, fanculo! Cosa diremo alle ragazze? Che non abbiamo fatto ciò che avevamo promesso perché siamo degli incapaci senza palle. Non ce ne scoperemo per colpa di quell'assorbente usato di Poggle. Poggle alla Dartmouth, da non credersi, ha la merda nel cervello. Ok, come ci procuriamo gli alcoici? Ciao ragazzi, come putta? Dove ti hai ricacciato? Mi hai quasi fatto venire un attacco di cuore. Scusa, fammela vedere. Ti sei cagato sotto, vero? No, no, te, te l'ho presa, è impeccabile. Controlla. Ah, guai? Sì, va bene, è più difficile da controllare, credo. Aspetta, hai cambiato il tuo nome in McLovin? Sì, McLovin. Ma che stupido nome è, Foggle? Sei un cantante di ritmo in blues irlandese? No, ti fanno scegliere il nome che vuoi quando vai lì. E tu hai scelto McLovin? La scelta era tra quello e Mohamed. Perché cazzo doveva essere tra quello e Mohamed? Perché non un nome comune da persona normale? Mohamed è il nome più usato sulla terra, legge un fottuto libro ogni tanto. Hai mai conosciuto uno che si chiamasse Mohamed? E tu hai mai conosciuto uno che si chiamasse McLovin? No, per questo hai scelto un ridicolo nome da vomito. Vaffanculo. Dammela. Primo, somiglia a un futuro pedofilo su questa foto. Secondo, qui non c'è neanche un nome di battesimo, c'è scritto solo McLovin. Cosa? Niente nome. Niente nome. Ma chi sei, Prince? Fogel, qui dice che hai 25 anni, ok? Perché non hai fatto scrivere che ne hai 21? Sette ore sta a sentire, faccia da culo. Ogni giorno centinaia di ragazzi vanno nei negozi di liquori con documenti falsi e ognuno dice di avere 21 anni. Quanti 21 anni credi che ci siano in città? Questa si chiama strategia, ok? Stiamo calmi, non perdiamo la testa. È un buon documento. Credo che funzionerà. È passabile, ok? Non è così terribile. Dipende da te, Fogel. Il commesso potrà pensare, ecco un altro con un documento falso o ecco McLovin, il 25enne hawaiano, donatore di organo. Ok? Allora che vuoi fare? Sono McLovin. Sì. No, non lo sei. Nessuno è McLovin. McLovin non è mai esistito perché è un dannato fattuto nome da favoletta, coglione! Ehi, vedrai che funzionerà. Fammi provare.